Bene, questo secondo movimento abbia la zona di appoggio si antipi, in questa maniera è sempre più stabile e vedrete che adesso è un po' più difficile far partire il movimento, si inibisce anche interamente l'azione, adesso ma sempre, mentre prima come avete visto facevamo uno, due, collo e vita, i due poteri, i due sigilli, lavorano in contraposizione. Quindi vado di qua, quindi uno, dalla cina in qua fino a qua vado lì, e questa resta, quindi uno, adesso invece uno, e vado dalla vita in su, tutte se voglio, verso cinque, e verso destra, sentire, la mano sbarco qua, via, adesso, vale, giù, essenzialmente il contrario, in questa maniera, insomma, giù, 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 non, non, questo, è possibile, questo è possibile, questa, questa stiva qua, qui, nel centro da qua, questo, è possibile, l'interenziale, adesso il lavoro grosso è copertissimo della ditta perché le alti stanno ferme perché in destra sono una forza, così è molto piante, vanno riguote tutta la forzione partendo dalla ditta, però non è riuscito dietro no le alti sono la vostra stabilità, i nostri stabilizzatori, non questo alto, questo alto, si è alto qua, è alto perifericamente e questo è l'altro, allora, questi sono due segnati che si incontrano, no? meglio c'è il vostro sacro, perché resti il vostro vaccino, meglio c'è il vostro sacro, qui sono, no? se io ho fatto sì, apro la periferia, no? invece dovete aprire dal centro, in Italia quindi dovete sentire una sorta di forza che spinge, così si fosse un altro elettrico direttamente qua, quindi è la prima forza contro la comune del deporte fondamentale del centro questo è un po' come fare lo ciclo i febri sono qua, ci stanno vedendo il tempo che fanno questo è il testo dei febri, è stato, è una parte dall'altra è una pulsazione, ovviamente non c'è lontanamente è solo un ciclo così, un po' come fare lo ciclo, fa, 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 non è così per entendersi, è proprio un, un, un è questo, e allora? un, un, direttamente da qui due imparate a spingere dal centro, attivare queste tre forze importantissime le tre forze, come nelle calze, ma vede che abbiamo questa della propria no? questo è lo stesso altro qui ce la vedete con i due femmili il momento finale è questa forza, vicino verso di qua vicino verso di qua, vicino verso di qua allargare, poi allargare il salmone però non da spiste dalla periferia, dal centro direttamente da spiste la volta che magari succede, la fase che scende spinge sul nostro sacro come sul nostro sacro spinge quando si va con le tucche per spaccare su un troppo battendo su un tucche all'acqua, quindi spacca il tucche e poi guarda, battendo la tucche della porta verso la terra e poi spero che sia la vostra vita di casa e grazie per aver guardato il video